Ciao a tutti ragazzi qua Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online E siamo qui con un nuovo death run simile ad uno che abbiamo già giocato Ovvero quello dove insomma dovevamo scappare dalle varie auto che volevano colpirci Allora cerchiamo di salire, ma qui cosa dobbiamo fare? Ok a quanto pare c'è tutta una salita, vabbè andiamo, vediamo un po' dove arriviamo Ho visto già un'auto volare, non lo so, comunque se dovrebbe essere proprio uno di quei death run Infatti si chiama runners vs t20, infatti avremo forse le progene t20 contro Allora ci siamo, ok dovremmo esserci ragazzi, si ci siamo, ci siamo Allora vai giù, vai giù, salta, perfetto qui ci siamo ragazzi Allora vediamo un po', non c'è nessuno da questa parte, invece si stanno già per arrivare Oh merda, che cazzo è, sono già pronti questi? No, non è possibile Come faccio ad andare? Ragazzi c'è uno prontissimo qui Oh merda qualcuno forse è già morto dei miei, dovrei fare la finta di andare Vediamo un po', oh merda, no questi qua sono pronti ragazzi a distruggermi praticamente Che cosa mi conviene fare? Mi conviene forse correre direttamente Attenzione, oh oh ecco qui già arrivano Ragazzi veramente particolari il tutto, vai corri adesso, corri adesso che uno se n'è andato Vai 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 vai, andiamo salta, ok le abbiamo fottuti Velocità, attenzione, attenzione, no mi ha colpito ma siamo ancora qui Oh merda salì qui sopra che qui non dovrebbero colpirmi ragazzi Allora potrei provare ad andare Sì questo qui, che cazzo fa? Moriremo insieme Uh quello è sceso dall'auto? Perché? Allora scendi, 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 vai corri 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 andiamo Stranamente ragazzi quello è sceso dall'auto Vai 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 che ce la facciamo Vai salta qui sopra Ok sono riuscito a salvarmi in qualche modo Eh le armi dovrebbero essere, buh penso qui vicino perché già lì ci sono dei container Andiamo 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 non colpirmi Ok quello mi ha sfiorato cazzo No dove cazzo vai? Dove vai dove vai? Dove vai non fare scherzi Mamma mia il mio personaggio ragazzi sarebbe da arrestare Non so è illegale il mio personaggio Allora cosa devo fare? Perfetto qui abbiamo già tutte le armi Va benissimo va benissimo Allora qualcuno ha già preso qualcosa Io vorrei un bel RPG Allora alcuni sono nascosti al radar Va bene vi troverò Non c'è problema bastardi Abbiamo 5 munizioni di RPG Vabbè direi anche di prendere il carro armato così totalmente e andare Vediamo dove arriviamo ragazzi E andiamo ovviamente anche nascosti al radar Perché altrimenti quei bastardi ci vedono Perfetto nascosto Va benissimo adesso non mi possono più vedere Allora vediamo un po' di raggiungerli Attenzione uno è caduto Eccolo lì e boom salta in aria bastardo No è qui li possiamo fregare soltanto così ragazzi Uno sta arrivando Vai colpo qui Ok quello è saltato in aria Ce n'era uno nascosto al radar prima Dov'è però? Dove sei finito? Non lo so ragazzi questo qui Non vorrei che se ne andasse Ma non penso che possa Eccolo qui Eccolo qui e boom salta in aria anche tu Forse ragazzi sono morti tutti è vero? Sì perfetto Veteran completato E primo round ragazzi vinto Nonostante quei bastardi erano fermi lì ad aspettarmi Siamo riusciti ad arrivare Fortunatamente anche Comunque alle armi Al carro armato E le abbiamo fottute alla grande Veramente ottimo Secondo round Adesso avremo le progen Eccole qui Vai 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 Prendi una Prendi questa E andiamo ragazzi Tutte bianche Partiamo Allora Cerchiamo subito di prendere quei bastardi Che secondo me Cioè non so Potrebbero rimanere fermi Oppure potrebbero iniziare a correre Qui intanto mi hanno spinto Quello che lagga Proprio disumano Allora Vediamo un po' Stanno già andando No per il momento Non sembra esserci nessuno Forse sì ragazzi Non lo so Andiamo qui Boom Il primo colpito in pieno Epico È morto sì È caduto giù No non è morto Sì ragazzi è morto Perfetto Vabbè si è suicidato Veramente l'ho devastato io Non è che si sia proprio suicidato Però va bene così Stanno avanzando Vai 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 Boom Anche quello colpito ragazzi Neanche sono caduto giù No veramente Che cazzo è? Che cazzo ci fanno questi qui? No non è normale Colpiamoli Colpiamoli Ok quello è andato Ce l'abbiamo colpito Vai 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 Cadi giù Cadi giù Ok dovrebbe essere morto ragazzi Che cazzo è? C'è un altro qui Vai Mori anche tu Mori anche tu in qualche modo Andiamo a investirli È veramente difficile Perché laggano Laggano tutti Allora va Ok ce l'abbiamo fatto È morto ragazzi Allora Dovrebbe mancare l'ultimo Eccole da quella parte Andiamo subito adesso L'ho preso? No No non l'ho preso Mamma mia Si è salvato Veramente in un modo incredibile Comunque sto devastando tutti Cioè li sto uccidendo tutti io Sia nel primo round Che anche adesso Questo che cazzo fa Ah ma questo è abbandonato Ragazzi quello Quello lì ha abbandonato la partita Vai 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 Attenzione Boom Colpito Vai vai giù Cadi giù Cadi giù Ok è caduto il cadavere ragazzi Abbiamo ucciso anche lui Mamma mia Quante uccisioni Abbiamo vinto anche questo round Ragazzi tutti io forse li ho uccisi Non lo so Comunque secondo round vinto Veramente epico Ed eccoci qui con il terzo Allora Adesso sarà un bel problema avanzare Perché gli altri comunque hanno già capito il tutto Allora Andiamo Andiamo Guarda Che cazzo fa? Vai che siamo qui Perfetto Vai Qui nella barriera ci siamo Va benissimo Allora gli altri Sono tutti qui ovviamente pronti con le auto Sono in tre Ok uno è andato Mamma io direi di andare adesso subito di colpo Oppure no Non lo so Quando vanno gli altri Io andrei quando vanno gli altri C'è anche un mio sosia Un mio clone C'è completamente uguale Occhiali ragazzi Eppure il completo Mamma mia L'hanno fatto identico Comunque qui arrivano auto Vabbè andiamo Vai muoviamoci 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 Salta Attenzione Ok non mi hanno colpito Andiamo Andiamo Tutti in una volta ragazzi Tutti in una volta Che sono andati giù Quelli non sono sbandato Vai muoviti 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 Salta qui No mi hanno ucciso Niente Mi hanno spiaccicato Contro quelle cose E siamo morti Niente da fare C'è il mio clone Però ragazzi Che sta andando avanti Guardate un po' Dai vediamo Vediamo un po' Se lui ce la fa Mamma mia Il mio clone Vai 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 Ok dentro Ormai dovrebbe avercela fatta Anche questo personaggio Che è automaticamente Il mio clone Fa le cazzate Si arampica Nelle cose Dove non deve arampicarsi Allora nulla Spero che adesso Riescano a farcela Perché comunque sia Se prendono il car armato Gli altri potrebbero scappare Quindi non lo so Però La cosa positiva È che già ci sono arrivati Incredibilmente Uno ha preso l'elicottero Un nemico No non è possibile Ragazzi un nemico Ha preso Aveva preso l'elicottero Si l'hanno Guardate qui Un nemico ha preso il buzzard No da non credere Sono riuscito ad arrivarci Assurdo Mamma mia Ragazzi che cazzo sta succedendo La mia squadra verrà fottuta E vabbè Poi questo qui neanche Cioè il mio alleato dovrebbe andare nascosto al radar Come ho fatto io Ma ce l'ha fatta L'ho ucciso Tug life proprio Round vinto Vai la mia squadra ce l'ha fatta Mamma mia All'ultimo devo dire Però sono riusciti ad uccidere tutti Quarto round Vincendo questo Dovremmo anche vincere la partita Cioè Finora l'abbiamo vinti tutti noi Quindi vincendo questo Dovremmo anche vincere la partita Ma Non so ragazzi Se effettivamente ci riusciremo Allora qui mi hanno fottuto l'auto Andiamo Prendi questa Prendi questo Ok Qui si rubano tutto E muoviamoci Non salite con me Prendetevi un'auto vostra Quello lì Lo diciamo investito Allora Con calma Con calma E prepariamoci Proprio come Come fa ogni volta La squadra avversaria Mi preparo qui Stanno andando Forse sì Stanno andando tutti Muovetevi Io non mi muovo Ma forse è il momento ragazzi Forse sarebbe il momento di andare Non so Diciamo che potrei puntare sul mio sosio Perché alcuni Vogliono colpire me Tipo quello è fermo lì Secondo me Per prendere me Allora vediamo Vediamo un po' Il gangster È passato Oh merda Hanno fottuto il gangster Che cazzo è qui Arrivato un'auto Improvvisa No ragazzi Sono tutti fermi Siamo veramente fregati Però Un mio compagno È lì in fondo Che cazzo Uno ha preso il carro armato No Com'è possibile Non è normale Un nemico Ha preso il carro armato Non so ragazzi Vabbè A questo punto Direi di andare Andiamo 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 Vai 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 Salta qui Non mi hanno preso Andate a farvi fottere Bastardi Sta arrivando però Il carro armato Vai vai Andiamo Andiamo Qui attenzione Abbiamo schivato l'auto Ah perché Si lanciano E praticamente arrivano alle armi Questo è quello che fanno ragazzi Questo è quello che fanno Si lanciano E arrivano poi alle fottute armi Andiamo Vai Oh merda Forse stanno arrivando Indietro Li ho schivati Non so come Ma li ho schivati C'è questo qui adesso E cazzo Niente vabbè O mi colpivo O andavo giù io Comunque quello purtroppo Ha preso il carro armato Quindi mi sa che saremmo morti Comunque Non lo so Detteranno truccato A questo punto Round perso Vabbè Era prevedibile Non so che cazzo è successo Qualcuno ha preso le armi Non ne ho idea Eccoci qui con il sesto Vabbè Questo qui Penso ragazzi Che lo vinceremo Non lo so Abbiamo le nostre progen Questa volta Non possiamo sbagliare Proverò a non A non fare cazzata A non suicidarmi Allora andiamo Non salire con me Prendi un'altra auto Almeno C'è un'altra possibilità Di uccidere quei bastardi E vincere il round Allora Vediamo un po' Stiamo fermi Andiamo E boom Uno l'ho colpito Ma che cazzo è Ragazzi Quello lì l'ho colpito Ed è rimasto Non lo so Assurdo Comunque qui c'è un cadavere No quello sta già arrivando Sta già arrivando lì sotto Andiamo ragazzi Boom No non l'ho colpito Incredibile Ho preso la barriera No siamo fottuti Siamo fottuti Quello è praticamente Arrivato alle armi Se nessuno dei miei alleati È riuscito a fermarlo Stanno già sparando Con i carri armati Oh merda Oh merda Proviamo ad andare Nascosti al radar Niente mi hanno fregato Vabbè Era ovvio Niente da fare Anche il mio alleato È morto Va bene Ultimo round Probabilmente Vabbè anche quello di prima Sarebbe dovuto Essere l'ultimo Allora Qui il problema È che noi corriamo E siamo fottuti ragazzi Non ce la possiamo fare Attenzione Qui potremmo essere fregati Cazzo Quello sta arrivando Via Vieni qui Cos'è Mi hanno ucciso No vabbè Questo detterraneo ragazzi È truccato Qualcuno ha preso le armi Forse uno mi aveva preso a pugni Era riuscito ad arrivare Non lo so Non ne ho idea Ragazzi Detterraneo è truccato Alla fine Comunque il mio alleato È riuscito a prendere le armi Dai fotteteli Cerchiamo di vincere L'altro è il carri armato Dai la partita Deve essere nostra per forza Ragazzi Sono 20 secondi Praticamente C'è un avversario Ragazzi Guardate un po' Il mio alleato Sta rincorrendo Quello che scappa Per le colline Con il carri armato Cioè Non è normale C'è uno con la progene Che sta scappando Per le colline E non si fa a prendere Ovviamente il carri armato È più lento Comunque si stanno Scatendo i secondi Ormai dovrebbe essere Nostra la partita Penso che avremmo vinto noi Vediamo un po' Se quello lì si vede Non è assurdo Comunque penso che No abbiamo perso Perché abbiamo perso Perché abbiamo perso Se la mia squadra Ha ucciso tutti Boh non lo so Comunque questo Detrunner ragazzi È stato veramente stranissimo Cioè sono successe cose Troppo strane Boh abbiamo Beh assurdo Cioè tre round Di fila vinti Poi sono iniziate Ad accadere cose strane Gente che riusciva A prendere le armi Non lo so Detrunner truccato Assolutamente Comunque sia È stato molto bello Dai nei primi due Abbiamo ucciso Un sacco di gente Abbiamo fatto praticamente Sei uccisioni E poi cinque morti Tutte di fila Boh è veramente incredibile Comunque sia Molto molto bello Ragazzi che dire Io spero che il video vi sia piaciuto Quei da extra lasciate un bel mi piace E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao